Come è il sistema camerale? Consigliere Azzoli, i dati che risultano oggi dalla stampa sono drammatici per quanto riguarda l'occupazione giovanile e per quanto riguarda in particolare l'Italia e la Sardegna, abbiamo qualche possibilità di uscirne? Sicuramente dobbiamo uscirne, le possibilità sicuramente vanno create e vanno costruite con il supporto alle giovani imprese, infatti il convegno di oggi serve a dare nuove opportunità a quelle giovani imprese che sono in fase di start up aziendale, quindi hanno necessità di un supporto tecnico e logistico che deve dare sia alla Confederazione di Categoria e sia alla Camera di Commercio. Sono degli input importanti che vanno dati soprattutto in questa fase di forte crisi che senza il sostegno dell'organismo pubblico e delle strutture pubbliche e private si rischia veramente di crollare ancora di più perché adesso si fa imprese e si intraprende proprio perché c'è la necessità di inventarselo il lavoro. Ecco, una critica che si faceva forse anche in generosa nei confronti dei giovani italiani era che avevano di mira soprattutto il posto fisso, ora evidentemente speriamo che ci sia anche la possibilità di sviluppo del lavoro subordinato, però l'impresa oggi può dare una risposta anche in termini di occupazione, l'ha già detto ma vorrei che approfondissi un po', l'impresa e la giovane impresa? Beh, sicuramente darà ottime opportunità, però soprattutto dando una sinergia, un trade union tra l'impresa, innovazione e quindi innovazione e tradizione. Noi artigiani sappiamo lavorare benissimo, però adesso c'è la necessità di fare innovazione, quindi abbinare il nostro saper fare alle innovazioni tecnologiche, quindi collaborare con le università, costruire un percorso anche formativo per i giovani imprenditori, quindi ecco la necessità degli strumenti come il centro servizi della Camera di Commercio e come la Camera di Commercio stessa che deve dare lo strumento formativo, quindi diciamo tutto l'indirizzo e il supporto logistico che oggi serve a un giovane neolaureato, un giovane disoccupato che vuole crearsi e fare impresa, quindi innovare e fare impresa. Molto bello questo connubio tra innovazione e tradizione che poi è anche la tematica del convegno. Allora sveliamo quello che vi ho detto all'inizio, Cristian Nazzori oggi è stato nominato presidente del centro servizi della Camera di Commercio, così all'americana diciamo che è un presidente nominato, non è ancora quindi nella pienezza dei suoi poteri, però il centro servizi è uno strumento, un braccio operativo della Camera, può fare molto, già può anticipare qualche linea programmatica? Sicuramente può fare tantissimo, non molto e deve fare tantissimo, il discorso è sicuramente da improntare sul sostegno a quelle micro imprese, non solo indirizzare quelle imprese che riescono a fare internazionalizzazione già con le proprie gambe, quindi mediamente strutturate, ma magari con la costruzione delle reti d'impresa dare un supporto. Il centro servizi dà un supporto logistico, quindi creare e fare insieme, lavorare insieme, cosa molto difficile per noi sardi, però è il nostro futuro, è la nostra salvezza come impresa, quindi è importante dare gli strumenti con le reti d'impresa, con l'internazionalizzazione, quindi è la formazione, sono tutti strumenti legati l'uno fra l'altro, che hanno la necessità comunque sia di essere in sinergia l'uno con l'altro, quindi è opportuno mettere in campo tutte le professionalità e gli strumenti che il centro servizi ha e la Camera di Commercio ha, per sicuramente investire nella formazione continua sia degli imprenditori e dei propri collaboratori, perché anche quello è importante, quindi costruire anche i propri dipendenti a forma di impresa. Un'ultima battuta davvero su Sardegna e Cagliari e Aria Vasta, abbiamo possibilità rispetto alle risorse che abbiamo, in particolare mi riferisco anche alle risorse umane, alle persone, di vedere con un po' più di ottimismo questa situazione che oggi propende più al dato di drammaticità di una crisi che morde. Deve essere così, ci costringe, la crisi morde, quindi siamo costretti a cambiare strategia tutti i giorni, quindi in base anche agli strumenti che l'impresa ha quotidianamente è una sfida quotidiana, è giusto tenere duro e le confederazioni, la Camera di Commercio e tutte le istituzioni devono essere un supporto vero e forte, soprattutto vicino alle imprese. Presidente, mi sono dimenticato l'Europa che è sempre molto importante, il 2012 anno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni, lì è un giovane presidente e ci crede a questo slogan che non deve essere solo uno slogan? Certo che ci credo, diciamo che sono un piccolo esempio nella Camera di Commercio di Cagliari e nel centro servizi che ha 38 anni comunque sia, ha un ruolo importante, sente il peso tutti i giorni di questo ruolo, soprattutto rapportandosi quotidianamente con le imprese, perché quello è il fondamento, è lo stimolo che mi consente tutti i giorni di lavorare per la mia impresa e per le nostre imprese associate. Grazie e buon lavoro.